siamo all'albergo luciola di santo stefano al mare oggi il 24 aprile 2021 ci stiamo preparando con le ultime manutenzioni al giardino per la riapertura anche del ristorante finalmente lunedì 26 riapriranno i ristoranti anche alla clientela esterna e non solo ai clienti dell'albergo come noi abbiamo sempre fatto in periodo covide 19 finalmente apriranno anche le regioni e quindi finalmente avremo un po di clientela turismo dopo un periodo di grande astinenza e solo con la clientela lavoro come vedete il mare è stupendo il clima è stupendo e quindi noi siamo pronti per ricevervi all'albergo luciola di santo stefano al mare telefono 0 184 48 42 36 www albergo luciola.com